sono luogotenente francesco di vetta dunque dopo un breve periodo breve abbastanza lungo di periodo in un collegio romano sono stato ho fatto diciamo il primo concorso dell'aeronautica 18 anni vinsi quel concorso e fui assunto il 15 gennaio del 73 e poi mandato alla scuola di mancerata e frequentai il corso è il 57esimo corso normale frequentare il corso di preparazione diciamo per essere mandato poi al reparto gruppo che fosse finita la scuola il primo trasferimento fu il 71esimo gruppo di pratica di mare allora appena costituito da circa un anno era un gruppo di guerre elettroniche con dei pericoli pd 808 g e mi trovai lì per preparare l'ufficio diciamo ufficio ii e anche la sorra diciamo la segreteria operativa dei piloti del specialisti in quel periodo la cosa principale è stata la conoscenza del generale arpino che era il comandante di gruppo e il caso ha voluto che dopo tanti anni fosse una cosa una persona veramente importante per la mia vita militare rimasti al gruppo e una decina di anni fino al 1983 nel periodo appunto trascorso in quel gruppo feci diversi carichi diciamo soprattutto dal punto di vista lavorativo diciamo e la cosa che primi per me mi premeva soprattutto era voler volare voler far parte degli equipaggi di volo cosa che invece per la mia categoria non era prevista e allora rimasi un po sconcertato da questo fatto chiesi a diversi comandanti mi scusi comandante mi fa fare parte di questi equipaggi se si può fare se si si può organizzare allora tutti erano un po ridicente allora a quel punto almeno fatemi fare qualche missione così con voi siccome il pelivolo era previsto per cinque persone era difficile potermi trovare un posto per me la cosa non era possibile quel punto chiesi vorrei imparare qualcosa di diverso allora mi dissero cosa vuoi fare per lo meno fare un corso d'inglese il corso d'inglese mi fecero fare il corso a ciampino fu una cosa interessante veramente mi piaceva allora a quel punto rimasi contento ma dopo di che la mia aspirazione era quella di far parte degli equipaggi di volo e lavorare con questo gruppo perché in pratica diciamo erano diventati amici amici di tutti proprio ero amico di tutto nel senso di tutti nel senso che sentivo questo spirito di corpo che mi dava veramente il senso buono della parola nel senso lavorare per qualcosa di di utile di importante ea certo punto il mi chiamò il comandante germani allora che era comandante del cora allora centro di ricerca mi chiamò e mi disse se volevo venire volevo andare da lui e fare un corso di lingua lingua araba rimasi perplesso però disse subito di sé la cosa mi entusiasmava soprattutto mi dava carica nel senso mi piaceva qualcosa di diverso fare qualcosa di diverso di importante e feci questo corso con un collega il corso prima in italia quindi durato nove mesi bellissimo perché in pratica imparai a scrivere imparai a leggere soprattutto imparai una lingua completamente diversa magari perché da ragazzo avevo fatto al latino greco oppure ma un po di francese soprattutto ma parlare scrivere l'arabo era una cosa veramente non ci credevo invece la cosa veramente mi appassionava che con il mio collega facendo questi appunto nove mesi e dopo di che fu mandato a il cairo nove mesi anche lì sempre diviso in due parti sei mesi tre mesi a quel punto conobbi due professori di lingua araba due arabi veramente uno musulmane uno copto erano veramente fantastici dei professori veramente in gamba dovevamo imparare la lingua prima possibile nel senso che dovevamo finire i nove mesi parlando cercando di parlare l'arabo la cosa risultò difficile ma soprattutto per una cosa perché in pratica il corso d'arabo era strutturato in base alla lingua del corano cioè impari la lingua classica non impari la lingua parlata dalla gente comune cioè tu a quel punto è inutile che parli il classico non ti capisce nessuno infatti al cairo era così allora riuscimmo a ottenere delle 25 ore settimanali di scuola cinque ore a settimana per l'arabo diciamo comune della gente comune infatti una ragazza una ragazza sempre egiziana ci insegnò questo questa parlata diciamo e fu una cosa interessante perché dopodiché quando ritornammo a roma mi ricordo allora ci chiedevano appunto di questo corso anche perché successivamente altre persone andarono poi a fare questi corsi quindi cercare di impostare il corso in maniera tale che servisse utilmente alla persona e non soltanto così per imparare una cosa che non servisse a niente bisognava strutturarlo in una maniera un po' differente nel senso farlo classico ma dare la possibilità a ragazzi di imparare la lingua comune allora facciamo alcune modifiche inizio appunto una selezione per mandare delle persone al cairo all'ambasciata la selezione prevedeva alcune prerogative cioè a chi sapesse la lingua magari poteva ottenere un vantaggio invece successe tutto il contrario perché in pratica io che avevo fatto il corso d'arabo mi trovai magari dopo lo seppi da un collega a ottava nel senso che avevano deciso di mandarmi a ottava però ci penso penso è che ci pensarono bene prima di fare questa cosa quindi cambiarono al mio nome con il nome del mio collega in pratica che lui andò a ottava io al cairo andai al cairo appunto lì veramente imparai la lingua posso dirlo francamente che giravo giravo l'egitto dal alessandria a swan abu simbel luxo abbiamo anche con mia moglie ho girato portando spesso con me la mia attività oltre un ufficio diciamo dell'attento militare aeronautico in pratica si interessava principalmente del come si dice della dare l'assistenza ai velivoli e agli equipaggi di passaggio sul territorio egiziano nella ricorrenza della battaglia di elamene l'italia organizzò questa grande cerimonia e lì rivedere dei luoghi che avevano fatto veramente storia il nostro sacrario era custodito in una maniera perfetta proprio lo spettacolo di elamene la bellezza del posto è proprio davanti al bar mediterraneo proprio bello e poi vedere così custodito le persone che avevano dato la vita per la patria era stato per me un tocco veramente profondo dopo di che è stata organizzata una cerimonia per quanto riguarda la pattuglia acrobatica che si è svolta a luxo e poi successivamente ad al cairo anche lì facevamo la nostra parte dando una grossa mano all'organizzazione che fu veramente spettacolare dopodiché ritorna in italia e nel 89 ritornai sempre a cento celle all'aeroporto al core al comando del core e lì successo una cosa strana anche quel nel 90 appunto mi fu chiesto domandato dice vuoi andare a partecipare alla guerra del golfo se sei disponibile ho detto subito per me non ci sono problemi purché tranquillo fecero il comandante germani fece il mio nome e c'erano due destinazioni ma ricordo bene una era appunto al d'afra degli emirati che l'altra era a buddhabi io scelsi al d'afra poi venne a sapere che il comandante sarebbe stato il mio comandante sarebbe stato il generale arpino era una cosa che non avrei mai immaginato in effetti del nostro ufficio che si chiamava un aereo era formato da lui capo e io eravamo due persone che dovevamo badare a tutta la diciamo la dinamica dell'operazione andai al d'afra e rimasti una settimana se non sbaglio senza fare niente proprio lì nel villaggio augusta in attesa di disposizioni allora poi mi dissero a un certo punto mi sono guarda tu sei stato lì assegnato con il generale arpino e quindi devi recarti a rialto nell'ambasciata italiana ambasciata italiana veramente accolto bene dal personale veramente siamo stati accolti con una gentilezza proprio invidiabile la nostra la mia sede era in pratica una camera con un letto apparato rice trasmittente e la camera vicino era del generale e lì avevamo il nostro posto di comando ai primi giorni fino al 17 gennaio siamo rimasti abbastanza tranquilli nel senso c'era una discussione sempre aperta con la politica italiana e di buon grado mi sono fatto i miei 38 giorni fino alla fine della guerra in pratica in sede e salvo qualche volta mangiare che dei panini presi così al volo e il resto sempre dentro in ambasciata comunicare con l'esterno comunicare con lo stato maggiore comunicare con l'ambasciata perché anche con loro c'erano delle cose da fare e soprattutto comunicare eventuali lanci di scuola solo questa è la parte principale nel resto mi interessavo di tutto delle comunicazioni diciamo le principali che erano quelle del resoconto giornaliero quella la parte più importante perché superiori autorità dovevano essere informate sull'accaduto giornaliero e quindi facevamo in pratica in generale era lui che faceva queste cose nel senso che io magari lo ha aiutato diciamo così nel nel trascrivere le cose quindi ecco lì che in pratica riuscivamo a la notte magari tardi a mandare il resoconto giornaliero quello che successe dopo il 17 gennaio in pratica inizia la guerra ma noi non eravamo pronti però mi ricordo soltanto i primi bombardamenti che arrivarono su riad e lì diciamo ebbe un po di paura nel senso che non si sapeva esattamente cosa fosse se questi missi avessero delle testate diciamo chimiche e così biologiche starò e allora con il generale vi ricordo fissammo le finestre tutte chiuse lui disse ti preoccupare tranquillo vediamo quello che è successo bene effetti noi sentivamo gli scud ma soprattutto il problema era i patrioti incontravano questi scud e succedeva si diciamo il raggio d'azione magari vedi più ampio va bene però in linea di massima tranquilli dopo la prima notte successa invece la cosa grave la notte successiva quando gli italiani partirono per la missione e allora lì ci fu veramente l'ansia sì perché stavamo sempre in attesa di comunicazioni e comunicazioni ce le dava al centro operativo al nostro dove c'erano i nostri colleghi diciamo dell'aeronautica e quindi sempre in attesa e quando ci avvertirono l'aereo è stato abbattuto subentrato un po di un po di paura un po di paura per poi venuti a sapere appunto che però erano vivi la cosa principale ci siamo un po ripresi dello spavento chiaramente il problema problema dei piloti era grave e generale era un po timoroso da questo punto di vista nel senso aveva secondo me paura del del male che potessero fare questi a questi ragazzi il rapporto con i piloti devo dire che ragazzi veramente in gamba e con loro non ho mai avvertito alcun genere di sofferenza di non lo so mi sono trovato bene erano amici se devo dirlo è tutto merito al generale al pino perché riusciva a creare sempre un ambiente sano pulito diciamo tranquillo soprattutto ti dava tranquillità e ti sentire a tuo agio devo dire invece non ormai non sentivamo così per niente gli scud furono assegnati dei carabinieri allora dei carabinieri all'ambasciata e questi carabinieri in pratica andavano a vedere sopra la terrazza lo scontro diciamo dei degli scud con il patriot secondo loro era divertente e mi dissero ma perché non vieni a vedere anche tu quello che succede se volete ci regola in effetti non devo dire che la paura l'avuta solo il primo giorno la prima notte non ho sentito nessun desiderio diciamo di fuggire e lasciare il posto di ritornare in italia anche se mia moglie aspettava la bambina e quindi avevo detto al generale arpino se mi dava qualche giorno lui disse stai tranquillo vedremo poi è così è finita la guerra e siamo ritornati in tempo per vedere la bambina che è nata e tutto tranquillo dunque nel 91 dopo ritornai a roma sempre all'aeroporto di centocelle nel 92 il generale arpino incredibile mi segnalò per una visita da abu dhabi la visita facciamo una visita preparatoria per l'ambasciata per sistemare l'ambasciata perché volevano aprire l'ambasciata l'addetto aeronautico però era giunto a abu dhabi allora andammo a vedere loro perché erano tutti generali io ero so che ero io francesco di vetta assisteva diciamo alle loro visi in pratica generale arpino mi segnalò e già aveva intenzione secondo me di mandarmi lì ad abu dhabi presumo lui non mi disse mai niente devo dire che ha deciso lui io ho accettato sempre di piena ma avrei fatto per qualsiasi cosa c'era il generale a rubano e facendo questa visita questa delegazione si trovava pianificare l'eventuale zona per trovare un ufficio per l'ambasciata dopodiché furono decisi alcune decise alcune persone da mandare in diverse ambasciate e io fu scelto per abu dhabi diciamo che lì c'è stata un po di penso di maretta perché in pratica i miei colleghi non è che potessero vedere tanto bene la cosa perché in pratica andare una volta era più che sufficiente due caso particolare e mi ricordo che mi disse anche lì in altra cosa che in pratica la mia segnalazione diciamo così era stata sospesa perché non era giusto probabilmente che io andassi una seconda volta soprattutto dopo tre anni del rientro dal cairo e allora lì penso è stato il generale arpino che è intervenuto e ha detto probabilmente deve andare diretta e quindi di questa cosa io gliene sono particolarmente riconoscendo andiamo io e colonnello urbano allora aprimo la sede di abu dhabi e io e lui ci troviamo bene nell'ufficio dovevamo chiudere doveva chiudere la sede di aldafran pratica c'erano rimasti dei container dopodiché 92 95 appunto lì fini la mia carriera diciamo all'estero in pratica e ritornai a roma sempre al allora a pratica di mare però era cambiato il nome del core in pratica era diventato grace gruppo analisi e situazioni e dopodiché nel gennaio 98 fui trasferito al ris il stato maggiore della difesa ris reparto informazione sicurezza io devo dire che nella mia vita militare gli amici non contrati tanti soprattutto colleghi e anche diciamo i superiori perché ho rispetto soprattutto nelle loro volontà diciamo di quello che hanno fatto poi diciamo che in pratica mi hanno aiutato perché se non avessi avuto diciamo questo bene diciamo da parte di alcune persone probabilmente non non sarei rimasto soddisfatto della mia vita militare soprattutto avrei avuto dei rimpianti invece nella vita militare che è una vita particolare ho trovato un ambiente dove mi sono realizzato dove culturalmente anche sono diventato più maturo più esperto nella vita militare questo ha un fondamento ma la cosa più bella ecco aver lavorato soprattutto per la forza armata quella cosa più importante grazie per la forza armata